48 corse giornaliere che presto diventeranno 76, una capacità di 4.500 passeggeri all'ora per un tragitto di 10 km da percorrere in 16 minuti. La linea metropolitana Bari-Centrale-San Paolo, il cui primo tratto di 5,5 km è stato appena inaugurato, rappresenta la più importante opera infrastrutturale che riguarda Bari degli ultimi 10 anni. Finanziata dalla Regione Puglia con circa 44 milioni di euro complessivi, a regime nel giro di 3 anni, consentirà di togliere dalla circolazione oltre 1.200.000 autovetture, con immaginabili benefici anche dal punto di vista della diminuzione delle emissioni. Il percorso, inizialmente con 4 fermate che diventeranno 6, sarà fruibile dal pubblico al costo di 90 centesimi da fine settembre. Credo che la Regione Puglia abbia davvero costruito una rivoluzione. Non esisteva qui una politica dei trasporti. Noi abbiamo investito per il rinnovo del materiale rotabile. Nel giro dei prossimi due anni i pugliesi conosceranno, già cominciano a conoscere in alcuni segmenti di territorio pugliese, vagoni che non sono reperti archeologici. Abbiamo, con questa opera che oggi abbiamo potuto vedere in tutto il suo splendore, ricucito pezzi fondamentali della città di Bari. In questa città noi abbiamo implementato il trasporto pubblico locale per un milione e mezzo di chilometri supplementari. Abbiamo fatto vivere il trasporto aereo che registra oggi in Puglia i picchi più alti di crescita rispetto a tutto il resto d'Italia. Cioè abbiamo costruito una politica. Avevamo assunto degli impegni importanti con il governo Prodi relativamente all'intervento strutturale sul nodo ferroviario di Bari e relativamente al treno ad alta capacità tra Bari e Napoli e ci auguriamo che il governo Berlusconi possa mantenere quegli impegni. Come ha spiegato l'assessore regionale ai trasporti Mario Luizzo durante la conferenza stampa di presentazione insieme al presidente della Giunta, Nichi Vendola e al sindaco di Bari Michele Emiliano entro dicembre dovrebbe essere pronto anche il passante ferroviario per l'aeroporto. E così il caro Luitila sarà il terzo scalo aereo d'Italia dotato di un collegamento metropolitano con il centro cittadino e la stazione ferroviaria. Finalmente ha cominciato la Bari Nord ma poi succederà con la Sud-Est e fra poco succederà anche con Trenitalia finalmente i pendolari pugliesi potranno cominciare a considerare un lontano ricordo le vessazioni in cui sono stati sottoposti in questi anni vedranno treni nuovi, confortevoli, vedranno un'infrastruttura efficiente stiamo provando a integrare il sistema degli orari, delle tariffe e quindi stiamo provando a rendere esigibili i diritti alla mobilità e ovviamente ci auguriamo, come sta già avvenendo che giorno dopo giorno tantissimi cittadini lasciano l'auto privata e pendano il trasporto pubblico perché questo è non solo più economico ma è anche un modo per dare un contributo alla salvaguardia ambientale.